Presentati! Se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe cantare una canzone e canto anche se non trovi le parole di Elisa. Non trovi le parole, hai girato il mondo dentro a un cuore, in te o... Fai un appello al pubblico per farti votare. Se vi sono piaciuta votatemi, aspetto molti voti e grazie a tutti per avermi votato, insomma, se mi votate.